Il partito è l'attacco di me Allora perché Oscar se la sta perdendo con me? Oscar, che sai? Ma avrò qualche problema perché continua a guardare la Vespa, a toccarla e se avessero i fumetti sul casco sarebbero bestemmioni. Non va, non va, non va. E plateale lo sconforto del quarto pilota. Oscar sconfortissimo con la Nodes. Anche il vero ultimo, ultimo. E anche il salutino. Oscar non deve fare ancora due. Adesso, è ancora lungo per fare. Claudio non lo sapevo. Marco dietro spostati avanti. E Marco finisce la terza mancia al pieno posto. A corte. Alex. Marco dietro spostati. E' un uomo. E' un uomo. E' un uomo. Grazie a tutti.